Elder Camera dice, quando si sogna da soli è solo un sogno, quando si sogna insieme è l'inizio della realtà. E' per questo che il nostro progetto Sogna Parco l'abbiamo pensato e costruito assieme. Perché solo insieme possiamo davvero fare in modo che uno spazio verde, prezioso e comune, diventi ancora di più un luogo del cuore in cui vivere, crescere ed imparare ad essere cittadini. Che hanno a cuore non solo il proprio territorio nel presente, ma che lo proiettino nel futuro come importante eredità per tutti. Per questo la scuola, la famiglia e i genitori saranno tutti coinvolti per creare, custodire ed usufruire di questa isola verde, un luogo da sogno che diventa realtà. Votate Sogna Parco!